Il pomerizzo, il pomerizzo è il luogo del desinare, della stanchezza, della pausa, della riflessione, del ragionamento, del limite e dell'ostacolo, del caldo, del freddo, della malattia e della salute, del conflitto, della lite. Il pomerizzo e il pomerizzo è più rilevato. Quasi no. Buonasera. Uè, vieni a sacerci con me. Ma non avevo detto. Ma non avevo detto. Tu sei che stai ammattato. Chiamo pure a sorma l'usinelli. L'usinelli! Tras! Uè, marido. Saluta a tutti quanti. Amo da te. Lusinelli! Te ci trovi a morire. Fa morire, io non mi voglio a morire. Ma come no? Chi l'ha una buona perdita? E' una buona? Lusinelli! Che vuoi fare? Lusinelli! Stai attendo a me. Aveva un marido e buono. E' un solo che buono fa. Hai! Ma... E' buona sorma faceva così. E' buona. E' buona scegliata. Presidente, ma tu pure sei? Non sto ascoltando. Hai visto a venire. Ma chi è un canosso? Bravo! E' un bravo, è giusto. E' un po' di cadù. E' un po' di cadù. E' permesso. Buonasera! 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 Ma che conosciamo dopo l'abile e powerserta! Mi pare a guardare qui, non lavare. Baby, guardami solo. Allora... 추 노ona... ... sono già... Ma onore... Rosenella! Aspetta Maria, ma chissà, non è chi li aveva la portilla con la che la fianca a me? Eh eh, la ricordo buona, è proprio chi li! Ma che c'è? Ma te lo puoi dire lì? Ah non è esse, allora non conosco! Mannaggia San Martino, non c'è barato! Eh va po', guaglio, hai chiuso l'animale! Mannaggia, hai già spuntato! Ti va stà, ridi con me, hai già fatto un passato! Ma aspetta, ora è un pulito! Tu se ne è, ora vengo! Ma che stai facendo? Ma stai facendo, ti volevo passare anche lì in Danesio! Ma non potresti ci aspetta! Ma perché? La pongo, non puoi sputtare! Io ti voglio troppo spettacolo! E perché? Tu ti voglio troppo spettacolo! E perché? Tu ti voglio troppo spettacolo! E' là qui? E' là qui è barati! Venom assuming! Et buona casi. We're经 ai!!! Sos! T'ha chiamato? No. Aspè, aspè, mi sta chiamando. Via, rispondi. Rispondo? Sì. No. Sì? No? E' muo, rispondi, chiesti. Rispondo. Poi? Dimmi. No. Stasera non esco con te. Non so, fatti tu. Grazie. Resto a casa. Ma dai. Vabbè, via, non posso più parlare. Devo chiudere. Ci sentiamo dopo. Chiamami. Ok. Ehi, Roby. Hai fatto? Tra dieci minuti, venga a prendere. Ok. Ciao. Amo. 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 Che stai facendo? Sei tornato a casa? A che ora è finito? Ho capito. Ti aspetto. Ti ho chiamato un sacco di volte. Ma perché non mi rispondi? Dove stai? Stasera usciamo, eh? Sei tornato dal mare? Com'era l'acqua? E io sto qua. Ti sto aspettando. Muoviti. Sapete? Tenei ragioni. Ehi, sono scema che non ti capisci. Certo. Ciao. Certo. 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 Ma perché sei morto? Tu parevi non ti contava. Tu salaterai nell'occhio. E' una cosa per chi? Le ricine innamorate. Fanno un po' per te le fusa. Ma la porta è sempre chiusa. E tu non rispondi più. Ma la mano. Ma la mano. Tanto gli cipoli. Ma la mano. Ma la mano. Ma la mano. Ma la mano. Ma la mano perché sei morto. Il pane e il vino non ti mancava. L'insalata era nel...